A poco più di 24 ore dallo schianto della nave Cargo Dali sul Francis Cotkey Bridge di Baltimora, nell'est degli Stati Uniti, diminuiscono le speranze di trovare ancora vive le sei persone disperse in mare. Sospese durante la notte le operazioni di ricerca con i sommozzatori a causa delle difficili condizioni del mare. Secondo gli analisti, il crollo del ponte costringerà le navi a dover intraprendere un percorso alternativo, con conseguenti ritardi nelle consegne e un aumento dei costi. Ci vorrà tempo per ricostruire il ponte intitolato a Francis Cotkey, infrastruttura chiave per il trasporto merci negli Stati Uniti. Joe Biden ha però promesso che il governo federale pagherà la ricostruzione. Grazie a tutti.